Eccoci qua, buonasera, è la vigilia del G20, ormai lo si dice da tutte le parti, il fatto è che domani e dopo domani c'è a Roma il grande incontro tra i leader delle principali nazioni dal punto di vista politico, diplomatico, economico del pianeta, anche se due dei leader, Putin e Xi, il russo e il cinese non verranno a Roma ma saranno solo videocollegati, è quel che succede al tempo del Covid e però ci sono tutti gli altri, a cominciare da Joe Biden che è stato il protagonista di oggi, è stato dal Papa, è stato da Mattarella, è stato da Draghi e diciamolo chiaramente, è il protagonista più atteso, è al suo primo vertice in presenza da quando è diventato all'inizio di quest'anno presidente in carica degli Stati Uniti e bisognerà vedere appunto quali saranno le sue mosse e questo è uno degli aspetti principali del grande incontro che appunto inizia nelle prossime ore a Roma dove c'è un dispositivo di sicurezza che potete immaginare sia il più grande da molti decenni a questa parte, anche perché l'Italia deve ancora superare lo shock di quel che accade a Genova nel 2001 e per quanto riguarda Roma c'è un ricordo recente, anche se non cruento, però grave con gli episodi di tre settimane fa nel sabato culminato nell'assalto alla CGL Chi manifesterà, e lo ha già chiesto e ottenuto come doveroso in democrazia, lo farà a debita distanza dalla nuvola dell'euro dove si svolge il summit e che sarà circondata da un dispositivo molto ampio Ma come vedremo ovviamente si parla ancora molto di quello che è successo ieri sera, il varo della manovra da parte del governo vedremo come c'è la soddisfazione delle forze politiche, sono quasi tutte nella maggioranza, come ben sappiamo c'è però l'insoddisfazione dei sindacati e come vedremo però ci sono alcune misure che ieri sono passate ovviamente in secondo piano di fronte a quelle più importanti, che però è giusto appunto ricordare sapendo che però in questa giornata ci sono molte altre cose, c'è una recrudescenza dei contagi ma questo era stato messo nel conto, ma ci sono molti altri aspetti intanto legati alla situazione c'è un aumento dello spread che non si può passare sotto silenzio e non si vuole passare sotto silenzio e c'è invece una notizia sempre dal versante economico molto positiva che è quella relativa al PIL che già dopo il terzo trimestre supera il 6% tendenziale annuo e potrebbe quindi crescere ancora di più ma vedremo anche un episodio di cronaca molto grave Ercolano in Campania vicino Napoli un uomo ha sparato, forse suggestionato dalle notizie delle ultime settimane a due giovani che si trovavano in un'auto e ha detto credendo che fossero dei ladri pronti a intervenire nella sua villa ha ucciso in realtà due giovani che erano reduci da una partita di calcetto ma vedremo anche, vi mostreremo in anteprima è quella che è la nostra esclusiva che andrà in onda domani in prima serata qui sulla 7 per la prima volta dopo più di 20 anni parla in televisione, fece una sola intervista a Enzo Biagi alla fine degli anni 90 Ilda Boccassini, una protagonista giudiziaria e non solo della scena italiana per almeno gli ultimi 30 anni domani sera, stasera vedremo un piccolo estratto 30 secondi i titoli domani scattano ufficialmente i lavori del G20 ma la vigilia del vertice è stata catalizzata già dall'arrivo del Presidente degli Stati Uniti Biden che dopo il Papa in San Pietro ha incontrato il Presidente Mattarella e il Premier Draghi tra Italia e Stati Uniti unità di vedute su gestione della pandemia ripresa, vaccini, difesa comune, ruolo dell'Unione Europea subito dopo l'incontro con Macron il primo dalla crisi dei sottomarini per due giorni quindi Roma sarà a snodo della politica internazionale con qualche preoccupazione come potrebbe non essere le misure eccezionali per vigilare sul vertice dei grandi spazio aereo chiuso strade blindate con migliaia di agenti dispiegati per ridurre al minimo il rischio di infiltrazioni nelle manifestazioni che ci saranno già domani nei luoghi del summit istituita una zona di sicurezza di 10 km quadrati con 19 varchi presidiati dalle forze dell'ordine in assetto antiterrorismo Il giorno dopo la manovra le forze di maggioranza dichiarano soddisfazione PD apprezza la riduzione delle tasse e gli interventi sulla sanità Renzi si concentra sulla crescita che sarebbe stata impossibile con Conte Salvini è soddisfatto per il ridimensionamento del reddito di cittadinanza che i 5 Stelle invece apprezzano perché inferiore al temuto i critici soltanto i sindacati con la FIOM che annuncia un pacchetto di ore di sciopero intanto il PIL continua a crescere potrebbe andare addirittura fino al 7% mentre invece preoccupa da subito già da oggi la salita dello spread a 130 La procura di Milano vuole interrogare l'ex capo dei servizi segreti spagnoli Carvajal nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi neri ai 5 Stelle Secondo Carvajal detto del poio una valigetta con 3 milioni e mezzo di euro sarebbe stata consegnata, si ricorderà la vicenda, all'ideatore del movimento Gian Roberto Casaleggio dal console venezuelano a Milano di Martino che infatti è indagato dalla procura milanese per riciclaggio, finanziamento illecito Il console respinge ogni addebito e chiede di essere sentito Il movimento a sua volta ha sempre negato assolutamente di aver ricevuto denaro Due studenti, 26-27 anni, incensurati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco a Ercolano vicino a Napoli Il proprietario di un'abitazione ha sparato credendo che volessero rapinarlo ma i due erano all'interno di un'auto che era parcheggiata solo nei pressi della Villa dell'Uomo forse stavano chiacchierando dopo una partita di calcetto L'uomo, un autotrasportatore padre di due figli, aveva subito un furto qualche mese fa ma poco quadra in questa vicenda Dopo oltre 20 anni per la prima volta parla in televisione in un'intervista Ilda Boccassini è un'intervista esclusiva che andrà in onda domani sera alle 21.15 su questa rete in cui l'ex PM parla delle grandi indagini che hanno scandito la sua vita e anche quella del Paese, dalle grandi inchieste sulla mafia seguendo le orme di Giovanni Falcone ai processi e anche agli scontri con Silvio Berlusconi L'intervista completa, ripeto, domani al titolo Parla Ilda alle 21.20 Buonasera e quindi l'attesa ormai è arrivata al termine domattina inizia il G20 alla nuvola dell'Eur a Roma ma di fatto il vertice è già iniziato una serie di incontri bilaterali e intanto ovviamente chi fa da padrone di casa l'Italia attraverso Draghi e anche il presidente Mattarella con la visita di Biden, di Modi che è il premier della democrazia più grande del mondo e quella da oltre un miliardo di cittadini l'India ma è anche tutti i leader delle organizzazioni sovranazionali il segretario dell'ONU Guterres o la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen Tutto questo insieme appunto in un'occasione l'estrema vigilia, visto che è iniziato mattina, del G20 in cui si parlerà, si analizzeranno le sorti della situazione internazionale Non è ancora la prima giornata del G20 per Roma è soprattutto la giornata di Joe Biden L'ospite più importante, date anche le defezioni di Xi Jinping e Vladimir Putin arriva nella capitale all'alba e prima di mezzogiorno è già in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco un incontro particolare per il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Kennedy è bello essere di nuovo qui, dice Biden al suo arrivo Sul tavolo ci sono una serie di argomenti di tutto rispetto e la visita si allunga addirittura un'ora e mezzo dalla tutela dei più deboli nel mondo post-pandemico alle scelte sul clima oggi il pontefice ha anche indirizzato ai potenti della terra in vista della COP26 di Glasgow un appello accorato perché ci siano risposte efficaci e decisioni radicali ma Biden arriva a Roma senza poter ancora sbandierare l'approvazione del suo pacchetto di interventi su clima e sostegno sociale ci sarebbero in ballo 550 miliardi destinati alla riconversione ecologica il più colossale intervento della storia lo ha definito il clima infatti è uno dei temi fondamentali del G20 insieme alla situazione del Covid con particolare accento sui vaccini e alle misure per la ripresa economica ma Joe Biden con Francesco affronta anche la posizione dei vescovi americani che tra pochi giorni potrebbero decidere di negare la comunione ai politici che non si oppongono all'aborto e lui sarebbe in prima linea mi ha detto che invece posso ricevere la comunione, dice Biden dopo il colloquio pomeriggio dedicato agli incontri istituzionali italiani prima Sergio Mattarella al Quirinale poi Mario Draghi a Palazzo Chigi a fianco di Biden sempre la moglie Gilla a quello di Draghi per la prima volta nel ruolo di First Lady la moglie Serena tra Italia e USA un'animità di vedute su tutta la linea gestione della pandemia, ripresa, vaccini la minimum tax che qui verrà sancita l'Afghanistan, la difesa comune il ruolo dell'Unione Europea il ritorno al multilateralismo subito dopo per Biden l'incontro con Emmanuel Macron il primo dopo la crisi dei sottomarini che ha visto coinvolte Washington, Camerra e Parigi siamo stati maldestri pensavamo la Francia sapesse tutto dice Biden non proprio scuse ma bisogna salvare la faccia di entrambi e andare avanti e proprio questo ritorno al lavoro comune a ritrovarsi insieme quasi tutti intorno allo stesso tavolo dopo le tante riunioni in video per paura del contagio è un po' il senso e l'importanza di questo vertice romano dove ci sono 20 invitati che rappresentano l'80% del PIL globale ma anche una grandissima quota dell'inquinamento planetario se non da loro quindi da chi dovrebbero venire le risposte alle crisi mondiali al G20 dei ministri della salute e delle finanze unico appuntamento ufficiale di oggi intanto si promette il 40% della popolazione del pianeta vaccinata entro il 2021 il 70% l'anno prossimo e però attorno ai grandi che si riuniranno avete visto lo state per rivedere in quel palazzo avveniristico ma anche architettonicamente audace quello della nuvola di Fuxas all'Eur a Roma e attorno a loro ci sarà un cordone di sicurezza enorme e oltre il cordone chi vorrà manifestare per ciascuno per i suoi motivi soprattutto coloro che sono contro questa riunione che cosa succederà? A Roma Eur da poco più di un'ora è attiva la zona di massima sicurezza all'esterno del centro congressi La Nuvola che nei prossimi due giorni ospiterà il vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 fino alle 22 di domenica prossima tutta l'area sarà off limits e l'accesso sarà consentito solo a chi abita o lavora nella zona un'area di 10 km quadrati con ognuno dei 19 varchi presidiati dalle forze dell'ordine in chiave antiterrorismo soltanto uno riservato all'ingresso dei furgoni dotato di scanner per scongiurare la presenza di esplosivi Il complesso progettato da Fuxas viene controllato e monitorato costantemente tutta l'area esterna è stata bonificata La capitale si prepara a vivere un weekend di controlli e restrizioni con aree di massima sicurezza anche attorno al Quirinale alle terme di Diocleziano e alla Fontana di Trevi per le visite programmate delle delegazioni prevista anche la chiusura temporanea di 12 stazioni della metropolitana diverse linee degli autobus verranno deviate presidiati gli obiettivi sensibili della città le principali ambasciate i palazzi istituzionali hotel e residenze dove alloggeranno le delegazioni decine di strade verranno chiuse La sala operativa della questura di Roma monitora costantemente la situazione e il lavoro di 8.000 tra agenti e militari di cui 5.300 uomini arrivati in rinforzo e dislocati per la città disposto anche il divieto di sorvolo sulla capitale su cui vigileranno l'aeronautica e gli elicotteri della polizia e da terra sarà attiva la sorveglianza antidroni con l'utilizzo di apparecchiature militari c'è massima allerta in vista delle due manifestazioni in programma per domani alle 15 attese circa 5.000 persone per il corteo dei Cobas e dei No Global da piazzare ostienze fino alla bocca della verità a San Giovanni previsto un presidio dei militanti del partito comunista al momento non sono previste manifestazioni dei gruppi No Green Pass e siamo a parlare di quello che ieri sera era l'argomento totale oggi passa in secondo piano rispetto al G20 ma è il dopo manovra il giorno dopo come spesso accade soprattutto ci sono rivendicazioni questo lo si è tenuto grazie a noi quest'altro poteva andare peggio se noi non ci fossimo stati eccetera eccetera tutti appaiono soddisfatti tutti rivendicano qualcosa meno i sindacati che soddisfatti decisamente non sono la manovra va decisamente nella buona direzione commenta il segretario del PD importantissimo l'impegno sulla salute e la riduzione delle tasse sul lavoro motiva a Renzi invece piace l'insistenza sugli investimenti e i dati sulla crescita impossibile ottenerli con Conte ancora a Palazzo Chigi argomenta rivendicando la bontà del suo strappo di un anno fa a Salvini piace che siano stati colpiti 5 stelle attraverso il ridimensionamento del reddito di cittadinanza ma anche che sulle pensioni sia passata quota 102 per un anno soltanto poi si vedrà a Conte piace che il reddito di cittadinanza sia stato colpito sì ma in modo più leggero del previsto l'applauso corale ieri sera al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la prima legge di bilancio del governo Draghi si traduce oggi in un profluio di dichiarazioni tutte positive ma tutte per ragioni diverse con l'eccezione dei sindacati tutti critici ma poi non troppo decideranno domani da farsi a parte la FIOM che brucia le tappe e annuncia uno sciopero anche se nel format tenue del pacchetto di ore creando anche qualche irritazione fra i metalmeccanici di Cisle e Will quanto all'opposizione neppure Giorgia Meloni ancora partita all'attacco e semmai in zona Fratelli d'Italia si registra il plauso di Ignazio Larussa all'aumento di stipendio dei sindaci il bilancio delle reazioni alla manovra è insomma inattivo per il Presidente del Consiglio a dimostrazione del grande lavoro di mediazione la questione che affiora però appena sotto la superficie è se sia stato Draghi ad aver dovuto rinunciare a qualcosa e quanto specie sui due provvedimenti cardine della stagione giallo-verde reddito e quota 100 e la lettura non è univoca un anno a quota 102 è quello che chiedeva Salvini non la riforma complessiva che chiedevano CGL e Cisle Will osservano a mezza bocca fonti sindacali sulla carta nel 23 si tornerà alla Fornero con riduzione della spesa pensionistica obiettivo primario del Premier da sempre e persistente richiesta di Bruxelles eppure con un occhio al calendario fonti parlamentari PD sottolineano che fra un anno con l'avvicinarsi delle elezioni e la possibilità che ci sia un altro Premier sarà difficile evitare correzioni e ulteriori rinvii del ritorno all'impopolare Fornero quanto a reddito il nodo del décalage cioè la riduzione progressiva del volume del sussidio non è stato sciolto nella direzione auspicata da Draghi i 5 Stelle hanno ottenuto che fosse legato al rifiuto delle offerte di lavoro e non automatico come la Naspi le possibilità di rifiuto sono state ridotte da 3 a 2 ma i tecnici sanno che nessun rifiuto viene mai registrato e comunicato dall'inizio della misura per dire sono stati comunicati finora meno di 100 rifiuti Conte deve incassare il cashback abolito è vero il super bonus molto ridimensionato ma per misurare nella manovra i rapporti del Premier con la maggioranza servirà tempo e la missione trasversale di queste ore tutti hanno parlato dei provvedimenti più importanti riguardanti come già sappiamo la riduzione delle tasse o anche le modifiche al reddito di cittadinanza o al meccanismo pensionistici e però non c'è solo questo nella manovra a spiccare per complessità peso economico e carica divisiva all'interno della maggioranza sono le pensioni con quota 102 per il 2022 e il taglio delle tasse con l'intervento su IRPEF e o IRAP la proroga del super bonus e il rifinanziamento con annessa revisione in senso restrittivo del reddito di cittadinanza tuttavia nei quasi 200 articoli e nei circa 30 miliardi della manovra 23,4 dei quali finanziati in deficit c'è molto di più rilevante il capitolo dedicato a giovani e giovanissimi c'è la proroga fino alla fine del prossimo anno degli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa a favore degli under 36 viene introdotta una detrazione del 20% sull'affitto fino ad un massimo di 2400 euro annui a vantaggio degli under 31 con redditi inferiori ai 15.493 euro arriva la carta elettronica con un importo ancora da definire per le spese culturali dei diciottenni che sarà l'approdo del bonus cultura introdotto nel 2016 reso strutturale con questa legge di bilancio senza vincoli legati all'ISEE strutturale come il congedo di paternità di 10 giorni per quanto riguarda i bambini il loro benessere fisico viene introdotto in quarta e quinta elementare il maestro di ginnastica specializzato novità anche per le neomamme lavoratrici che nel 2022 si vedranno riconosciuto in via sperimentale l'esonero per un anno a partire dal rientro dal congedo obbligatorio di maternità dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esonero contributivo che invece sarà totale per i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto stabile lavoratori di imprese in crisi capitolo lavoro nel quale la parte del leone la fanno naturalmente gli ammortizzatori sociali con i 4 miliardi e mezzo ad essi dedicati per l'estensione della cassa integrazione alle imprese sotto i 5 dipendenti e il rafforzamento della Naspi parallelamente sul fronte politiche attive potranno partecipare al nuovo programma gol per il reinserimento lavorativo anche gli autonomi che chiuderanno l'attività circa 4 miliardi per il 2022 andranno alla sanità compresi i due stanziati per l'acquisto di vaccini 1 miliardo e 8 in 3 anni vengono riservati al pubblico impiego soldi che in parte serviranno a garantire nuove assunzioni infine uno sguardo sul futuro a lungo termine su quegli investimenti pubblici sui quali hanno insistito con forza sia il premier Draghi che il ministro dell'economia Franco ad essi andranno 89 miliardi supplementari tra il 2022 e il 2036 un quinto sarà destinato alle amministrazioni territoriali Allora ci sono due notizie economiche due notizie di numeri una è positiva il PIL italiano già adesso è dopo il terzo quadrimestre oltre il 6% è una buona notizia il 6-1% è già stato accantonato quindi anche se ci fosse crescita nulla sarà il 6% ma tutti pensano tutti gli indicatori fanno capire che la crescita sarà ancora superiore forse al 7% il che vuol dire che si tornerà alla situazione pre-Covid già nel primo trimestre dell'anno prossimo e queste sono le buone notizie che arrivano dall'Istat e sono controfirmate diciamo così dal ministero dell'economia poi però c'è una notizia molto diversa inquietante perché torna a salire si impenna lo spread perché? per l'inflazione soprattutto che in Europa è salita al 4,1% ed è la seconda volta da quando c'è l'euro che sale così tanto il motivo lo sappiamo tutti perché ne abbiamo parlato tante volte in queste ultime settimane è la crescita enorme dei costi energetici che ovviamente spingono direttamente e a ricasco per la circolazione per la distribuzione la crescita di ogni tipo di prezzo e quindi l'inflazione quando c'è inflazione alta cosa succede? che la banca centrale europea in qualche modo attenua gli acquisti di titoli e a questo e questo nuoce soprattutto a chi ha interessi alti chi ha debito alto e sono l'Italia e la Grecia per questo cosa è successo? non so se abbiamo il cartello ma il nostro spread è salito di 16 punti chiudendo a 127,5 con un rendimento decennale dell'1,16% lo spread greco è salito a sua volta di 25 punti ma andiamo adesso a una vicenda che è internazionale ma anche italiana se ne parla in Spagna perché per le rivelazioni di un ex capo e dei servizi ci va di mezzo Podemos la formazione di sinistra di cui è stato documentato l'ottenimento di fondi mai confessati molto molto ampi da parte del governo venezuelano ma quei fondi sarebbero arrivati anche in Italia l'inchiesta della procura di Milano sul presunto finanziamento del regime di Chavez al Movimento 5 Stelle si concentra ora sul lato venezuelano di una vicenda tutta da verificare il primo nome finito sul registro degli indagati è quello del console venezuelano a Milano Giancarlo Di Martino accusato di riciclaggio nel fascicolo che procede anche per finanziamento illecito e che chiede di essere sentito al più presto per spiegare che si tratta solo di falsità al centro della vicenda c'è quel presunto documento di intelligence dei servizi venezuelani sulla cui veridicità si appuntano sin da subito diversi dubbi datato 5 luglio 2010 desecretato e trovato dal giornalista spagnolo Marcos Garciarei nel quale si legge che l'intento del governo di Chavez fosse quello di finanziare un movimento anticapitalista e di sinistra della Repubblica italiana e che quei soldi dovevano essere recapitati a un cittadino italiano di nome Gianroberto Casaleggio 3 milioni e mezzo in contanti consegnati a Casaleggio dal console secondo la narrazione del reporter spagnolo nascosti in una valigetta diplomatica quindi salva da controlli doganali una vicenda indegna detto subito il figlio di Casaleggio Davide che già a giugno 2020 quando uscì l'articolo presentò un esposto in procura per diffamazione contro il giornalista ma per capire perché l'inchiesta iniziata dopo lo scoop di Ray ora abbia fatto un passo in avanti bisogna tornare a 8 giorni fa giovedì 21 ottobre quando dopo una lunga attesa complice anche il covid il giornalista spagnolo è stato sentito in procura a Milano ai magistrati ha confermato fornendo nella memoria indifesa dall'accusa per diffamazione riscontri che l'avebbero convinto i PM che quel documento era autentico ed era indirizzato a Ugo Caravajal detto del Pollo che per 10 anni è stato il capo dell'intelligence di Chavez e Maduro passando dall'uno all'altro ricercato dagli Stati Uniti per traffico di droga che ora chiedono la sua estradizione a Madrid che lo tiene in custodia dopo averlo arrestato da metà settembre il militare venezuelano sarebbe stato per molto tempo una fonte del giornalista e che fosse il destinatario del documento glielo avrebbe confermato anche lo stesso figlio di Caravajal fatti tutti da verificare per la procura di Milano che lunedì scorso ha fatto partire l'ordine investigativo europeo per interrogare l'ex capo dei servizi venezuelani dopo aver verificato che ai giudici spagnoli nei giorni scorsi avrebbe confermato per intero la vicenda del presunto finanziamento al Movimento 5 Stelle ed altri partiti e movimenti antisistema tra cui Podemos la risposta del tribunale spagnolo è attesa nei prossimi giorni c'è come sappiamo già da alcuni giorni perché succede da alcuni giorni una crescita anche oggi degli indicatori dei contagi nella lotta contro la pandemia e oggi ci sono stati penso ci sia il cartello 5.335 nuovi contagi e con un tasso di positività che risale sopra l'1% come vedete all'1,1% e questo ovviamente è dovuto al fatto che col progredire di una stagione più fredda in Italia come nel resto d'Europa e come è successo l'anno scorso cresce il numero dei contagi molto meno che 12 mesi fa grazie al fatto che ci sono tanti vaccinati e che ovviamente si ha più conoscenza di quali devono essere i meccanismi di distanziamento e c'è l'utilizzo anche ovviamente del Green Pass vedremo però nelle prossime giornate come proseguirà questa situazione come evolverà ci sono 18 regioni adesso non più 4 che hanno un rischio moderato tutte restano bianche soltanto 3 la Sardegna la Valle d'Aoste la Basilicata sono senza rischio senza rischio neanche basso ma andiamo adesso a un'altra vicenda una vicenda di cronaca abbiamo parlato nei giorni scorsi di una storia di un uomo nel sud del Lazio che ha sparato a coloro che stavano rapinandogli la casa uccidendo uno di loro uno dei rapinatori ma forse per imitazione a questo non è arbitrario dirlo sicuramente c'è una vicenda brutta che viene dalla Campania dalla sua villa dal terrazzo della sua villa ha sparato a due giovani in un'auto credendo così ha detto che fossero dei ladri erano in realtà dei giovani che stavano chiacchierando in macchina e li ha uccisi i due giovani erano in auto fermi in una stradina di Campania sono stati uccisi nella tarda serata di ieri a colpi di arma da fuoco a Dercolano vicino Napoli il presunto omicida il proprietario di una villetta durante il lungo interrogatorio avrebbe detto sono stato io li avevo scambiati per due ladri una storia sconcertante su cui gli investigatori stanno cercando di fare piena luce dai primi accertamenti dei carabinieri questa sarebbe la dinamica dei fatti Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro 27 anni erano fermi in un'auto parcheggiata in una stradina di Campania non lontano da un campetto di calcio e a pochi passi da questa villetta dove vive l'uomo che ha sparato si tratta di un autotrasportatore di 53 anni con una moglie e una figlia l'uomo secondo la ricostruzione era affacciato alla finestra ha visto quella macchina ferma e si è insospettito ha preso l'arma una pistola legalmente detenuta e dopo aver esploso diversi proiettili avrebbe colpito i due ragazzi raggiunti entrambi alla testa i due giovani sono morti sul colpo dagli accertamenti dei carabinieri sul posto risulta che i colpi sono stati esplosi frontalmente a chiamare i militari dell'arma è stato lo stesso presunto omicida che poi interrogato ha raccontato di aver subito già dei furti in passato ma da quanto si è appreso finora le due giovani vittime non hanno fatto nulla per scatenare quella folle reazione erano disarmati fermi nella loro macchina conosciuti da tutti come due bravi ragazzi studenti entrambi di portici incensurati secondo la ricostruzione in nessun modo avrebbero minacciato l'uomo stavano chiacchierando avevano passato la serata in un bar a vedere la partita come racconta uno zio una morte assurda dice il proprietario della villetta al momento sarebbe stato di fermo con l'ipotesi di accusa di duplice omicidio domani sera in prima serata dopo il TG e dopo in onda una esclusiva del nostro telegiornale per la prima volta dopo più di 20 anni parla risponde in un'intervista una lunga intervista Ilda Boccassini che è stata fino a due anni fa una delle figure più note della magistratura inquirente italiana che lega il suo nome a tante inchieste importanti e anche a quelle in Sicilia sulla mafia e sulle uccisioni di Falcone a cui era molto legata e Borsellino ma Ilda Boccassini tutti lo ricordano è stata l'APM di procedimenti importanti quello delle toghe sporche e quello del caso Rubi insomma c'è tanto di cui parlare e a tante domande ha risposto Ilda Boccassini vi diamo solo un piccolo estratto quando Sciascia parlò quella famosa definizione dei professionisti dell'antimafia forse toccò anche ingenerosamente qualcuno che professionista non era se mai era professionale come Paolo Borsellino però poi forse ex post quella quell'etichetta si può attagliare a molti che lei ha conosciuto ma io ne ero convinta anche all'epoca quando lessi il pezzo di Sciascia ero più giovane meno esperta più come diceva Giovanni selvaggia cioè voglio dire quello che poi mi è capitato non cercandolo che la vita mi ha dato cioè tutte le inchieste con cui mi sono dovuta in un mondo molto più grande di me che era difficile anche starci dentro con i piedi giusti e non fare la mostra sbagliata e fare la fine di appunto Squid Game per cui muori ma muori anche non solo fisicamente mori dentro c'è molto ovviamente una lunga intervista che non posso consigliarvi di vedere semplicemente perché ovviamente ne sono l'autore però ci sono molti spunti indipendentemente dalle domande mettiamone così molto interessanti domani alle 21.20 dopo in onda questa sera invece dopo di noi c'è come sempre dal lunedì al venerdì Lilly Gruber con 8.30 ospiti Lucio Caracciolo Monica Guerritore Silvia Sciorilli Borrelli e Marco Travaglio poi è venerdì quindi c'è propaganda live mai avrei pensato di vedere nello stesso programma Oliver Stone e Paolo Scelata ma è quello che succederà stasera ci sono anche Lillo Chiara Valerio Andrea Pennacchi The Ramona Flowers Karma B ovviamente poi Marco Damilano Francesca Schianchi e Costanze Roicer ci fermiamo Poco mosse in fine delle borse l'ultimo giorno di contrattazione settimanale Milano ha chiuso con un meno 0,05% in questo momento a Wall Street Dow Jones più 0,18 Nasdaq più 0,07 è tutto Gruber Zoro ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti